Quanti debiti ha? Quanti debiti? Penso che non riesco neanche a contarli. Addirittura. Ma come fa a dormire sereno la notte? Come a dormire? Non dormono gli altri, io dormo, non è mico un problema, sono gli altri che si devono preoccupare, mica io. Cioè quelli che devono prendere i soldi? Ebbè regolare. Scusi però possiamo fare una cifra, dare una cifra? Allora voglio adesso così. Siamo seri. Tutti gli interessi, penso sui 7-8 tutti. 7-8 milioni con tutti gli interessi. Come ha fatto arrivare a 7-8 milioni di debiti? Quando una volta 30-40 anni fa si facevano i castelletti. Che so i castelletti? I castelletti? I castelletti, sì. Che so i castelletti? I castelletti erano quando tu andavi in banca chiedevi un fido, versavi, cambiali, riba, tutte quelle cose lì, le banche ti elargivano, magari facevi un castelletto non so da 100 milioni lo portavi a 200-300 milioni. Ma lei è un bandito? Ma che bandito? Ma che bandito?